In una villa di Rapallo i pittori della scuola milanese di avanguardia si preparano per le prossime mostre, le conosceremo a uno a uno. Le amiche in visita diventano subito modelle per il rapido sintetico estro disegnativo di Cassinari. La sua pittura stabilisce grandi ritmi di colore, mentre le linee dinamiche del movimento si fanno sensibili arabesco nei suoi bozzetti in bianco e nero. Una serie di monotipi esemplifica l'arte di Crippa, che rasenta soluzioni astrattiste, pur con elementi e forme ancora vicini a un realistico vero. Ecco il pittore in persona con Cassinari. Peverelli, sulla sua ricomposizione del porto di Rapallo un'ombra è passata. Forse il putto è un critico passatista? Nudo di donna ancora di Peverelli. Una poetica Luisa Sambonè guarda la gentile Luisa Sambonè. Lui Sambonè permette che lo guardiamo dipingere, ma è geloso dei segreti della propria pittura.